Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulle prime conoscenze sui poligoni oggi andremo a vedere i poligoni congruenti. Quindi, dopo una breve spiegazione di che cosa significa quando si dice che due poligoni sono congruenti in realtà vedremo la definizione di equivalenza, vedremo quando diciamo che due poligoni sono isoperimetrici e poi in particolare cosa significa essere congruenti e distingueremo tra congruenza diretta e congruenza inversa. E a questo punto poi ci soffermeremo su alcuni esempi e quindi come identificare, dato un certo poligono qualsiasi, come si fa a dire se altri poligoni sono direttamente o inversamente congruenti a questo dato poligono. E per finire, e questo sarà più un esercizio per voi, proprio un esercizio di disegno, cioè dato un poligono come disegnare altri poligoni che siano adesso direttamente o inversamente congruenti. Ma prima di andare nella lezione vera e propria, iniziamo un po' con un riscaldamente, cioè facciamo un po' di esercizio di logica. E oggi abbiamo quello che si chiama l'enigma del giorno, che si chiama il quadrato tranciato. Immaginatevi questo, avete un quadrato, un quadrato come sapete ha quattro angoli. Se ne tagli uno, quanti angoli avrà la figura risultante? Per questo tipo di esercizi legati a delle figure piane, in genere è una buona idea, cerca di visualizzare proprio il problema, se non addirittura proprio disegnarlo e vedere cosa succede quando viene fatto a quest'azione. Quindi avere un quadrato a cui poi tagli via uno dei quattro angoli e quindi vedere nella figura che viene fuori quanti angoli sono rimasti. Vi consiglio a questo punto di mettere in pausa il video, pensare un attimo a una possibile soluzione e poi fatelo ripartire, così vi dirò qual è la risposta. Eccoci di nuovo al nostro enigma. Quindi consideriamo questo quadrato, io taglio via un angolo e quello che mi rimane è un pentagono, quindi una figura con cinque angoli. I poligoni che noi studieremo nel corso di quest'anno e il prossimo, li studieremo dal punto di vista delle loro misure, in particolare la lunghezza del loro perimetro e l'estensione dal loro superficie, ovvero quella che noi chiamiamo l'area. Allora, confrontandoli quindi ci capiterà di incontrare le parole isoperimetrico e equivalente. Cosa significa? Isoperimetrico significa che questi poligoni hanno lo stesso perimetro, quindi cosa significa? Che non hanno necessariamente la stessa forma, potrei avere un pentagono che è isoperimetrico a un triangolo, per esempio, cioè l'unica cosa che conta è che il loro perimetro, cioè la somma delle misure di tutti i loro lati, sia uguale. Lo stesso vale per equivalente. Equivalente significa avere la stessa area e di nuovo non significa che questi due poligoni, questi tre poligoni, quelli che hanno la stessa forma, però occupano la stessa superficie, quindi il due poligoni potrebbe avere un problema in cui un quadrato è equivalente, che so, a un esagono. Non sono assolutamente figure uguali, ma hanno la stessa area. Invece congruente è qualcosa di più. Congruente significa che due poligoni sono esattamente identici, cioè hanno la stessa forma, hanno la stessa dimensione. Ovviamente la parola congruente ingloba in sé anche la definizione di isoperimetrico ed equivalente, perché due poligoni che sono congruenti avranno ovviamente lo stesso perimetro, avranno anche la stessa area. Da un punto di vista visivo, noi diciamo che sono congruenti e se li possiamo sovrapporre. E nella parte successiva di questa lezione vediamo come possiamo sovrapporre due poligoni. Cominciamo con la prima definizione. Allora, noi diremo che due poligoni sono direttamente congruenti se sono sovrapponibili solo con traslazioni o rotazioni. Allora, traslazione, vi ricordo, è un movimento rigido sul piano, cioè è un movimento in cui l'oggetto non cambia direzione. Quindi, per esempio, consideriamo questo poligono, questa è una traslazione, quindi un movimento rigido nel piano in cui, vedete, il nostro oggetto non sta cambiando il suo orientamento. Allora, noi vogliamo vedere, e vi anticipo ovviamente, che questi due poligoni sono congruenti, però voglio vedere se sono direttamente o inversamente congruenti. se sono direttamente congruenti, dovrei essere in grado di sovrapporre questo poligono a quest'altro solo con traslazioni o con rotazioni. Eccola qua. Va bene? Quindi andiamo a vedere se questi due poligoni concavi, come potete notare, si sovrappongono. Quindi, traslo, ruoto, eh, già qui potete intuire qual è la risposta, traslo ancora, e come vedete, i due poligoni si sovrappongono perfettamente. Ho fatto solo traslazioni e rotazioni, quindi questi due poligoni sono, come si dice, direttamente congruenti. Finiamo la breve lezione di oggi andando a vedere invece la differenza di inversamente congruenti. Nel caso di inversamente congruenti, le due figure piane non sono sovrapponibili solo con traslazioni e rotazioni, ma ho bisogno di quelle che siamo un ribaltamento, eh, o uno specchiamento. Di nuovo, andiamo a prendere il nostro poligono di partenza, lo trasliamo, lo ruotiamo, e notate che questi due non si sovrappongono. Allora, provo a fare un'altra cosa, provo a, scusate, provo a ribaltarlo. Quindi, andiamo a vedere capovolgi, sinistra, destra, vediamo, e già qui si intuisce che stiamo andando nella direzione giusta. Ed infatti, eccoci qua. Quindi, ho dovuto traslare e ruotare, ma soprattutto ho dovuto fare un ribaltamento. Quindi, in questo caso, posso dire che i due poligoni sono inversamente congruenti. Con questa lezione abbiamo chiuso quest'unità sulle prime conoscenze dei poligoni. Da qui in avanti andremo a vedere specifiche classi di poligoni, in particolare i triangoli e i quadrilateri. Ma per oggi è tutto. Arrivederci. passiamo a vedere. Grazie. Grazie. Grazie a tutti